Due ore e altri quattro testimoni nell'udienza di questa mattina del processo ai cosiddetti mercenari. Dopo le deposizioni del colonnello Troia, responsabile della sicurezza per l'ambasciata italiana Baghdad e del funzionario diplomatico Ficarra, si sono seduti al banco dei testimoni Paolo Simeone e Valeria Castellani, già indagati dalla procura di Genova per lo stesso reato contestato agli imputati baresi Salvatore Stefio e Giampiero Spinelli, a ruolamento non autorizzato al servizio di uno Stato estero. Per Simeone e la Castellani è stato emesso a Genova un decreto di archiviazione tuttavia per sua stessa natura non definitivo. Questo vuol dire che deponendo oggi in aula Bari avrebbero potuto dire qualcosa di compromettente essendo ancora indagabili. Per questo i due più attesi testimoni di questo processo si sono entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere. Dei due sono però stati messi agli atti verbali con le dichiarazioni rese ai carabinieri di Genova il 18 giugno 2004. Stefio e Spinelli sono accusati di aver reclutato Didri Forese e gli ex ostaggi Umberto Cupertino e Maurizio Agliana che il 12 aprile 2004 furono catturati in Iraq insieme con Stefio e Fabrizio Quattrocchi. Quest'ultimo fu ucciso mentre gli altri furono liberati dopo 56 giorni di prigionia. Alla prossima udienza giovedì prossimo sono stati citati a testimoniare Massimo D'Alema, Franco Frattini e l'ex direttore del Sismi Nicolò Pollari.